Siamo con il grandissimo Alessio Riccardo, il grandissimo campione, lui frigo della Roma qui al Grand Hotel Rizzo, al Gran Gala del Calcio, tutti intorno ad Alessio perché rappresenta la Roma, perché rappresenta lo Sponga, il futuro Alessio, allora Forza Roma no? Sì, sempre Forza Roma, vedi com'è stata l'ambito calcio? Sì, è stata una giornata per la società molto triste, è stata un duro gol, è un grande maestro, in campo e fuori, giusto? Sì, sì, Daniele è stato, per me perché sono giovane, non potevo desiderare altro a fianco, allenamento, quasi per tutto perché ero un dei peggiori. Allora, grazie Alessio, complimenti per quello che sei, quello che faccio tutto perché sei un grandissimo sportivo, anche lo sportiamo in calcio. Grazie e un bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie.